lo so sono scotennata pettinatura dai petardi alla pettinatura culo aperto è un attimo sto da cani ma come si dice anche in tv show must go on lo spettacolo deve continuare e quindi seppur non sia riuscita quasi per niente a seguire i social oggi sono stata tutto il giorno a letto da ieri che ho botte di febbre che salgono e scendono ho fatto la terza dose ma questa volta mi ha preso un po male c'è tutto un dolore al braccio alla scella alla parte della schiena ho la febbre che sale e scende sono devastata però ho detto do un colpo di spazzola alla veloce faccio un video abbastanza veloce perché stasera non riesco a stare tanto in piedi a parlare a fare e già tanto che mi sono riuscita a sedere dal computer le mie collaboratrici salutano lady ghost e le di sadako e normalmente sono color porcellino oggi sono color lady ghost e le di sadako però allora faccio un ciac si evoca breve perché comunque è una serie tv di 12 puntate che di cui no che di cui posso raccontare solamente appunto la prima stagione perché la seconda stagione a quanto pare verrà tirata fuori nel 2022 ma non ci sono ancora date certe invece la prima stagione era del 2018 ed erano solamente 12 puntate il titolo è the ugly queen ve lo dico in inglese o in italiano perché in cinese non mi riescevo benissimo da pronunciare comunque è una serie cinese della cina continentale la regina brutta l'epoca non è definita essendo una storia quasi fiabesca una sorta di favola fantasy ma perdonatemi ma io oggi veramente sono all'ultimo stadio e presumibilmente comunque si intuisce da alcuni particolari che potrebbe essere ambientata in un'ipotetica epoca del periodo della dinastia cin perché perché a un certo punto si intravede un matrimonio nel quale i due sposi senza la festa globale davanti a ospiti eccetera ma solo tra di loro fanno i tre inchini matrimoniali esclusivamente uno verso l'altro e questo era di prassi fino alla dinastia cin dopo la dinastia cin subentrò la dinastia han in cina e lì i tre inchini degli sposi come rituale propiziatorio vennero suddivisi invece a tre inchini specifici quindi un inchino agli antenati un inchino tra gli sposi un inchino ai genitori mentre invece appunto prima della dinastia han i tre inchini erano semplicemente tra lo sposo e la sposa era una premessa giusto per far capire a chi eventualmente si interessi anche di storia delle dinastie cinesi io più o meno il periodo epocale c'è un re un imperatore l'imperatore del regno di chi che è uno degli imperatori forse più squallidi sulla faccia della terra a circa 24 25 anni è un marpione corre dietro a tutte le sottane che trova gli piace bere come una spugna e non mantiene mai una promessa data una schifezza di uomo a prescindere che sia un imperatore il popolo del ci è un popolo estremamente potente non grazie a questo imperatore ma grazie invece al padre al nonno che erano stati regnanti col pugno di ferro e con grandi capacità combattive tanto da rendere appunto l'impero del ci un impero tra i più potenti il problema inizia a sorgere quando sale al trono invece questo ultimo imperatore che è un emerito cratino sotto tutti i punti di vista la sua fortuna tra virgolette e che ha un ottimo primo ministro e un anziano e carismatico e un un co di fiducia che bene o male riescono a mantenere un minimo di ordine nello stato si rendono però conto anche loro e in particolare il primo ministro che è una persona estremamente sveglia che il regno così non può andare avanti allora informatosi del fatto che in uno dei paesini montani sulle nelle parti finali del regno del ci esiste una ragazza che ha un'intelligenza fuori dal normale e una capacità tattica nonché una grandissima capacità combattiva per quanto riguarda il kung fu il primo ministro decide di gabbare l'imperatore idiota facendo in modo che sposi questa ragazza perché dal punto di vista appunto del primo ministro una regina così potrebbe aiutare e salvare le sorti del grande impero del ci per gabbare l'imperatore scemo il primo ministro non potendo né mentire comunque all'imperatore e né dire falsa testimonianza si limita a dirgli che su quei monti in quel determinato paese di montagna esiste una donna una ragazza che è ineguagliabile senza specificare il resto l'imperatore che come dicevo all'inizio è un emerito deficiente come sente ineguagliabile pensa subito ineguagliabile bellezza al che parte convintissimo alla volta di questa ragazza con l'intenzione di sposarla perché perché il primo ministro gli aveva detto che era ineguagliabile e anche che era comunque una donna estremamente saggia estremamente istruita e con un grandissimo acume per quanto riguardava le sorti della nazione e la gestione delle tattiche sia militari che non quindi l'imperatore scemo pensa è bellissima sa tutto la sposo senza problemi arriva quasi al villaggio e lei incontra in mezzo al bosco la incontra in mezzo al bosco perché nel frattempo mi fa male il braccio il primo ministro si era accordato con lei dicendole che sarebbe arrivato l'imperatore in quel dato posto e che l'avrebbe chiesta in sposa l'imperatore appunto arriva sul luogo la vede girata di spalle la vede magra alta con i capelli lunghi sciolti e immediatamente le chiede di sposarlo lei gli dice sei sicuro che mi vuoi sposare assolutamente sì 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 come si gira l'imperatore gli piglia un colpo da lì la regina brutta perché è truccata malissimo con dei puntoni neri tutti smarchiacchiati i denti di sporchi e ha una voglia tipo voglia di vino sul viso che le deturpa l'aspetto qua quando si volta all'imperatore ancora un po più un colpo e ci resta lì ma ormai ha dato la sua parola e tra il ministro e tra tutti quanti che lo convincono l'imperatore alla fine dice che comunque accetterà la promessa che ha fatto e la sposerà le dice di tornare a casa che sarebbe andato a prenderla ufficialmente con la portantina della sposa e tutto il resto lei va a casa lo racconta tutto il paese lo racconta anche alla madre al padre e ai due fratelli e tutti la la prendono un po in giro dicendo sì l'imperatore del cica il c è il paese più importante delle contrade qua intorno viene a sposare a te e gli dice sì sì me l'ha promesso verrà il giorno tal dei tali nel frattempo l'imperatore è tornato a palazzo uno dei paesetti intorno delle contrade più piccole manda una delle figlie di uno dei rai minori in omaggio come concubina al all'imperatore è una bella ragazza sa ballare sa fare tante cose l'imperatore si impalla e la prende come concubina principale tanto quasi da prometterle di farla regina lei in realtà vorrebbe avvelenare l'imperatore poi però si sta facendo due conti nel frattempo perché se diventasse comunque regina diventerebbe comunque a capo del paese più potente il c e quindi di conseguenza anche il paese di suo padre sarebbe elevato di rango e quindi tende un po sull'uccidere l'imperatore anche perché vede che è un idiota e pensa di poterlo manipolare quanto vuole intanto dalla brutta regina il tempo trascorre arriva il giorno in cui l'imperatore avrebbe dovuto tornare a prenderla ma l'imperatore non si fa vedere lei arrabbiatissima mentre il paese la sfotte e prende in giro anche la sua famiglia parte dice nei genitori che andrà direttamente a palazzo a far mantenere la promessa all'imperatore si presenta dunque a palazzo l'imperatore quando la vede si spaventa ma il primo ministro sempre attraverso tattiche sotterfuggi perché tanto l'imperatore è un cratino riesce a convincerlo che comunque è giusto che lui mantenga la sua promessa e quindi la sposi lei quindi viene in qualche modo nominata la regina ma nel frattempo lui aveva promesso a quell'altra di farla diventare regina quell'altra così decide di andare a rendere omaggio alla brutta regina tentando di avvelenarla ma le ugly queen la brutta regina woghly si chiama si accorge del trucco perché questa c'ha una brocca che girando il coperchio può versare da una parte acqua dall'altra veleno da una parte vino dall'altra veleno o vino avvelenato se ne accorge e la uccide l'imperatore si incavola a morte perché gli ha ammazzato una concubina che a lui piaceva tanto e a nulla serve il fatto che lei gli dica che quella era una complottista e voleva ucciderlo passa qualche tempo e un altro dei paesetti lì intorno manda un'altra ragazza in omaggio al re questo re basta che vede due occhi due tette un culo ci esce di testa anche questa ragazza diventa la concubina del nord sempre lo stesso palazzo della prima concubina che era stata fatta fuori dalla regina ma quando anche questa va a rendere omaggio alla regina tenta direttamente di ucciderla subito insieme alla sua cameriera sguainano le spade e cercano di ucciderla la regina si difende e le fa fuori l'imperatore è sempre più incazzoso gli hanno ammazzato un'altra che gli piaceva a nulla serve che la regina gli continui a dire che quelle erano complottiste che volevano uccidere anche l'imperatore ma scoppia una sommossa da parte di un paesino che porta in guerra un esercito di quasi centomila soldati tra una preghiera del primo ministro e una richiesta dell'eunico anziano la regina decide di salvare il paese parte allora con un esercitino di mille uomini e sconfigge immediatamente tutto l'esercito nemico tornando vittoriosa con un'armatura fatta apposta per lei che le copriva la macchia la voglia di vino che aveva in faccia e con la sua arma preferita che è una lancia con la mannara diciamo finale il re non sa come liberarsene non può venire meno alla promessa ma quella regina brutta gli mette la nausea inoltre gli ha già ucciso i due concubine e questo gli fa girare le palle allora decide di dargli come abitazione il palazzo zo wang che è a detta del del castello stesso una parte di palazzo maledetta nella quale tutte le vecchie regnanti le vecchie concubine che sono andate a vivere ci sono state uccise da un mostro lui si fallo a conti e dice se ci mando lì la regina viene uccisa e io me la levo dalle balle e la manda a vivere il primo ministro però la avvisa e anche alcuni dei servitori che gli erano stati affidati e che comunque essendo lei molto gentile caratterialmente seppur molto rozza nel parlare nel muoversi l'avevano presa in simpatia le dicono quindi che lì vive un mostro lei la notte si prepara per dormire quando arriva un essere pseudo umano tutto blu con la faccia un po da leone e i capelli rossi fiammeggianti di fuoco che la sveglia ma lei non si spaventa anzi lo prende a sberle e poi inizia a inseguirlo questo essere si spaventa si trasforma in una sorta di drago cane con i capelli rossi di fiamma che poi si scoprirà essere un chili e scappa 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 fino a buttarsi dentro a un pozzo che c'è al centro del giardino di questa casa lei allora decide di inseguirlo e dice all'imperatore di aspettare tre giorni se lei non fosse tornata avrebbero dovuto chiudere completamente il pozzo perché voleva dire che lei praticamente sarebbe stata uccisa dalla bestia e quindi per evitare che questa bestia uccidesse altre persone era meglio sigillare il pozzo l'imperatore le promette di aspettare tre giorni ma nel momento stesso in cui lei si butta dentro al pozzo l'imperatore dà ordine di sigillarlo subito a nulla serve la protesta del primo ministro dell'eunco e anche dei vari servitori che dicono no la regina ha detto tre giorni e lui no 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 perché poi se per caso il mostro torna per la sicurezza di tutti è meglio chiuderlo e chiude il pozzo sperando che se non la uccideva il mostro sarebbe stata comunque uccisa soffocata direttamente dentro al pozzo intanto nei sotterranei la regina sta seguendo questa bestia questo chili lo segue lo segue lo segue fino a arrivare fuori da una grotta dove trova un prato e trova una sorta di dimensione parallela tutta fiorata con grandi luci e con degli esseri un po particolari sono persone sono un po brutti in particolare ce n'è una che ha il viso da uomo ma è vestita da donna grossa e gli dice wogly vieni qui che ti spiego tutto tu in realtà gli dice alla regina brutta sei una fata questo è il regno delle fate e io sono tua madre in questo regno i tuoi genitori nel regno terrestre hanno accettato di crescerti perché tu volevi a tutti i costi provare a vivere un'esperienza terrena e volevi a tutti i costi in qualche modo proteggere il regno del ci poi però quando sei finita rinascendo come essere umano hai dimenticato gran parte di tutto quello che era la tua vita qua dice hai anche cercato di ucciderci lì il mostro che è sempre stato tuo compagno di giochi lei allora comincia un po ricordicchiare ma poca roba in pratica nel regno delle fate solo che lì le fate sono tutte brutte non ce n'è una bella come si immaginano le fate comunque il cilì decide di andare adesso con lei visto che lei si è ricordata del suo animaletto da gioco e per non spaventare gli esseri umani del piano superiore decide di prendere l'aspetto del cavallo torna quindi a palazzo passando per un'altra strada e rendendosi conto che l'imperatore aveva chiuso subito il pozzo ci saranno scontri e litigate con l'imperatore mentre lei cercherà di andare via incontrerà una banda di furfanti che rubano ai viaggiatori ricchi un po per dare ai poveri un po' una sorta di robin hood all'asiatica il capo di questi briganti è un ragazzo di 24 25 anni che padroneggia bene il kung fu questo ragazzo dice alla regina facciamo così ci sfidiamo io e te se vinco mi dai tutto quello che è in tuo possesso gioielli oro tutto quanto se vinci tu ti seguirò dovunque e lei gli dice ci sto combattono e vince da quel momento non viene ucciso il ragazzo diventerà il suo braccio destro avrà una stima per la regina fuori dal normale tanto che a suon di starle vicino e dimostrarle anche il suo valore la regina deciderà di adottarlo come figlioccio come figlio adottivo tornata a palazzo dirà all'imperatore che quello sarà il loro figlio adottivo e di più dirà anche all'imperatore che dovrà emanare un editto nel quale il figlio adottivo in caso di morte dell'imperatore dovrà diventare a sua volta imperatore lui l'imperatore firma l'editto perché tanto dice questo c'ha 24 anni io c'ho solo due anni quindi lui perché ne aveva 26 la regina ne aveva 19 e più o meno abbiamo la stessa età c'è anche la cosa che camperemo più o meno uguali quindi chi se ne frega posso anche dire che sarà lui le re dal trono e accetta sempre a causa degli scontri tra la regina e il re che continua a mentirle continua a dirle che andrà da lei a dormire invece non ci va continua a prendere concubine nuove che poi sono tutte donne che cercano di ucciderlo di distruggere il ci e tutte le volte lei le fa fuori e quello si incavola e via dicendo mille volte ci saranno delle disgreganze tra lei e l'imperatore centomila volte lei se ne andrà portandosi via parte dell'esercito e portandosi via anche il figlioccio e poi faranno pace ogni volta questo fin quando tutti i piccoli stati dei dintorni che da soli non sono riusciti in nessun modo né a distruggere lo stato del ci e né a uccidere l'imperatore decidono di coalizzarsi mossi anche dal fatto che la regina li aveva in passato presi in giro quando loro avevano cercato appunto di fare delle sommosse quindi feriti nell'orgoglio e con la voglia di far cadere l'impero del cicera il più grosso si coalizzano tutti insieme mettono insieme tutti gli eserciti e partono per attaccare lo stato del ci quello che fa saltare la scintilla del tutto è che la regina a un certo punto capendo che nell'aria c'era un qualcosa che non quadrava molto guardavo il gatto che stava guardando qualcosa che passava e capendo che c'era nell'aria troppa elettricità finge di morire ma finge davanti a tutti addirittura l'imperatore che ormai un po' ci si era affezionato e un po' comunque era l'unica in grado di difendere realmente la sua nazione si dispera tanto da dirle al capezzale che l'errore più grosso che aveva fatto era di non darle il matrimonio che lei aveva voluto il matrimonio ufficiale davanti a tutti eccetera piange disperato ma quando arrivano gli eserciti ad attaccare la regina magicamente ricompare perché non era morta veramente era una tattica per vedere chi avrebbe attaccato l'imperatore in quel momento lì di nuovo felicissimo tanto da prometterle per la millesima volta che lei sarà l'unica regina tattattati sempre le stesse promesse che poi però non mantiene mai tutti gli esercitini che sono stati gabbati decidono sempre per poter distruggere il ci di organizzare un incontro tra regnanti di tutti i paesi compreso l'imperatore del ci la regina sa bene che è una trappola in realtà vogliono uccidere l'imperatore i vari regnanti e i loro vari vassalli stretti ma non si preoccupa prende 30.000 uomini dice all'imperatore che questa volta deve venire anche lui e partono per questa riunione tra regnanti ovviamente come la regina la brutta regina the harley queen aveva intuito durante il tragitto per arrivare dove ci sarebbe stata la riunione uno per uno tutti questi regnanti cercano di attaccare con i loro migliori soldati e combattenti l'esercito dell'imperatore tentando di ucciderlo ma la regina li sconfigge tutti e lì non ha pietà li uccide uno per uno salva solamente il genero di una delle fazioni perché è un ottimo combattente di kung fu e lei sostiene che un combattente così valido sarebbe più utile portarlo dalla parte del C come comandante quindi gli dà il permesso anche di portarsi la moglie che era la figlia del vecchio regnante che invece aveva perso ed era stato ucciso e di diventare lavoratori per l'impero del C piuttosto che morire lui accetta nel frattempo a palazzo è arrivata un'ennesima concubina mandata da uno stato vicino anche a questa viene dato il palazzo del nord dove ormai erano state tutte ammazzate dalla regina questa era l'ultima questa è diversa non cerca di attaccare la regina in nessun modo non cerca di uccidere nessuno ma ha l'abilità di insinuare nelle orecchie e nelle teste ciò che lei vorrebbe dire ed è quello che fa con la regina inizia a insinuare che dal suo punto di vista le dispiace così tanto ma il re non si è mai prodigato per mantenere la promessa del grande matrimonio che doveva fare con la regina tanto da punzecchiarla la regina si rende conto di quello che sta facendo ma non può certo ucciderla semplicemente perché lei dice ciò che poi in fin dei conti è la verità perché il re mille volte le aveva promesso di farle fare il matrimonio regolare e reale che avrebbe dovuto una regina e mille volte ha scansato senza concederglielo la fine quindi la regina indispettita prende e va via va via dal castello va via dal regno del C va a trasferirsi nuovamente a casa dei suoi genitori arriva vestita da regina con i suoi gioielli e le sue cose tanto che i genitori e i fratelli la guardano e gli dicono ma sei diventata ricca perché loro erano campagnoli montanari e lei gli spiega che è stata palazzo e tutto ma lei non vuole più starci in quel modo se il re non si decide a fare tutta la trafila regolare del matrimonio ufficiale nel frattempo il re è disperato viene a scoprire cosa è successo viene a scoprire che la regina se n'è andata via per questa situazione e non sa dove sbattere la testa un po' perché in qualche modo le manca davvero perché ha fatto tante di quelle cose positive per il paese ed è stata comunque tra virgolette tanto paziente con lui che era comunque un idiota che in qualche modo ci si stava attaccando realmente e un po' anche perché se la regina andava via dal C non esisteva nessuno che poteva essere in grado di proteggere la nazione anche perché il figlioccio era andato via con la regina perché lui gli ha sempre detto tu sei il mio patrigno perché la regina mi ha adottato ma io sarò sempre fedele a lei non a te e ogni volta glielo ripete in faccia senza grossi problemi e anche il generale nemico che poi era stato assorbito dal C era comunque tra virgolette devoto alla regina allora decide l'imperatore di fare quel famoso matrimonio ufficiale parte quindi con tutta la sua schiera di servi e con la portantina da otto persone alla volta del paesino di montagna per andare a chiedere ufficialmente la mano di sua moglie fino a quel momento anche il matrimonio senza festa diciamo non era mai stato consumato perché tutte le volte che la regina gli chiedeva di passare la notte con lei lui trovava una scusa trovava l'altra perché non gli piaceva la faccia della regina non ci voleva stare invece la vanno a prendere con la portantina tutto il paesino di montagna rimane così anche i genitori della ragazza che per quanto la amassero non credevano che la figlia conciata come era avesse realmente sposato l'imperatore del C e invece lei si presenta davanti alla porta e le chiede ufficialmente di tornare a palazzo e di fare la festa di matrimonio tanto che la preparano come una sposa nell'usanza della Cina continentale quindi tutta vestita di rosso tutta imbardata delle corone e via dicendo e con il velo davanti alla faccia rosso a pendente che sarebbe poi dovuto essere tolto dal marito stesso attraverso un bastone rituale tornano quindi al C nel territorio del C tornano a palazzo e il matrimonio avviene in tutti i sensi e l'imperatore ne è anche felice ne è talmente felice che passa la notte con la regina nel frattempo però la concubina sta lavorando alle spalle di tutti ma è molto paracula lei non è come le altre che cercano di uccidere lei cerca solo di farsi strada nelle fiducia e insinuando e parlando di modo da salire di importanza in quelle sere dopo il matrimonio è lì che vedo il matrimonio che vi dico che sicuramente era la dinastia Qin perché durante la dinastia Qin il matrimonio veniva fatto dai due quindi in questo caso dal re della regina che si riomaggiavano dei tre inchini l'uno verso l'altro mentre invece dalla dinastia Hanin poi l'omaggio sarebbe stato diviso per tre antenati i coniugi e i genitori dei coniugi comunque per parecchie sere il re e la regina l'imperatore l'imperatrice dormiranno insieme l'imperatrice quindi rimarrà incinta ci saranno ancora vari piccoli trucchi per cercare di scominare l'impero del Qin manderanno una sorta di enigma da comprendere chiedendo in cambio se non fosse stato compreso la resa del Qin ma anche in quel caso la regina verrà chiamata in causa e seppur incinta riuscirà a capire l'enigma e tante altre piccolezze questo fino al momento del parto la notte del parto il pomeriggio del parto alle porte del palazzo della regina c'è il figlioccio che fa la guardia a tutto lo stabile e ci sono le cameriere di fiducia della regina che assistono al parto tra una fatica enorme e l'altra mentre l'imperatore ancora è in riunione e non sa neanche che la regina sta partorendo la regina mette al mondo un bambino un bel bambino sciottino roseo e sano una delle levatrici prende il bambino lo fascia bene e lo mette nella sua cullina nel frattempo la regina è scoppiata dalla fatica che ha fatto e quasi svenuta non si regge in piedi ha perso tantissimo sangue qui entrerà in gioco la concubina che faceva mille sotterfugi pagherà una cameriera che dovrà sostituire il principino con un qualcosa di diverso mentre questa cameriera riesce a intrufolarsi e fregando uno e fregando l'altro riesce ad arrivare fino al principino scambiandolo e portando via il principino nascosto in una cesta al re viene detto che la regina ha partorito lui quindi tutto felice corre verso il palazzo della regina si avvicinerà tutto inorgoglito verso la culla anche perché gli inservienti gli avevano raccontato che era nato un bel principino maschio e sano ma spostando la copertina per vedere il bambino troverai invece un essere nudo con una sorta di coda morto che fa quasi anche un po' impressione una sorta di mezzo animale tipo coniglio scuogliato lo shock sarà talmente grande che preso dalla rabbia deciderà di far bruciare viva la regina che nel frattempo però è in coma quasi scoppiata dal parte da tutto e non riesce a reagire nemmeno capisce cosa sta succedendo il re con gli occhi fuori dalle orbite chiama le sue guardie fa prendere la regina con tutta la coperta e la fa portare su una pira di rami secchi per darle fuoco arriverà però il figlioccio che minaccerà tutti compreso l'imperatore con tanto di spada qui che se si azzardano a torcere un capello alla sua madrina se la devono vedere tutti quanti con lui e lui oltre alla regina era il miglior combattente del regno del C essendo trovandosi minacciato l'imperatore ferma l'esecuzione il figlioccio va sulla pira prende la madrina e la porta via qui finisce la prima serie e quindi ora come me dovrete patire finché non esce la seconda serie per scoprire che fine ha fatto il principino che fine farà la regina che fine farà il re imperatore cretino e tutti gli annessi e connessi di questa storia questa serie uscì nel 2018 poi presumibilmente venne o interrotta o forse l'uscita della seconda serie non sembrava essere così richiesta dal pubblico in realtà avendo delle bellissime basi storiche nonostante la fiaba e avendo anche quella retroinformazione che a volte la diceria umana che considera appunto in questo caso le fate come bellissime in realtà le fate erano bruttissime però erano fate e come quando io vi dico che non è detto che perché vedete una faccia brutta deve essere un demone perché i demoni non sono brutti come gli angeli non sono tutti belli e non è detto che una faccia brutta sia malvagia o che una faccia bella e solare sia buona ma è un po' quella anche la morale di questa favola aspettiamo che esca la seconda serie sperando non ci metta troppo perché il finale di questa prima serie mi è rimasto qui ma andando poi a cercare sul web appunto The Ugly Queen 2 ho scoperto che andrà in onda nel 2022 ma non sappiamo quando un sito cinese narrava forse di marzo ormai con la globalizzazione sia marzo esce in Cina a marzo lo vediamo anche noi qua poi io li guardo anche in cinese quindi il problema non mi non mi si pone poi però ve li racconto in italiano nel frattempo aspettiamo io torno a letto ho già i nuovi brividi ho dolori dovunque è già tanto che sono riuscita a stare seduta qua a fare un videtto poi volevo farlo corto invece ho sparato per 40 minuti ma che questa storia era piena di dettagli che mi piaceva comunque raccontare un po' più in maniera comprensibile se lo volete vedere si trova con i sottotitoli anche in italiano tranquillamente su youtube in maniera gratuita e appunto si intitola The Ugly Queen detto questo qua sotto come al solito tutti i link dei vari social dove mi trovate e un po' più sotto 3 o 4 degli invece millemila link che tengono in vendita i miei libri e da ieri i miei libri per ora hanno caricato i due ma caricherò anche gli altri li trovate anche su google play e su google libri ciao